Dio non abbandona e prepara le nostre strade nonostante le debolezze umane, lo ha detto il Papa nell'Omelia. E quando le cose non vanno bene, Lui si immischia nella storia e arrangia la situazione e va avanti con noi. Ma pensiamo alla genealogia di Gesù Cristo, quella lista e questo generò a questo, e questo generò a questo, e questo generò a questo. In quella lista di storia ci sono peccatori e peccatrici, ma come ha fatto il Signore? Si è immischiato, ha corretto la strada, ha regolato le cose, pensiamo al grande Davide, un grande pecatore, e poi il grande santo, ma il Signore sa. Quando il Signore ci dice, con amore eterno io te ho amato, si riferisce a questo. Da tante generazioni il Signore ha pensato in noi, in ognuno di noi. Grazie. Grazie. Grazie.